Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Ancora qualche giorno i partiti renderanno note le proprie scelte, i nominativi che andranno a definire le liste per l'appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre. La data ultima è fissata per il 23 agosto. Il PD garantirà sei postazioni sicure in Puglia e fedelissimi di Michele Emiliano e Antonio De Caro, il sindaco di Bari. Nessun Tarantino figura nell'elenco dei privilegiati che potranno suffruire del salvagente dei listini bloccati nel proporzionale. A riprova della subalternità che il capologo Ionico continua a rivestire nonostante il dramma nazionale ed europeo dell'ex Ilva e le promesse da marinaio di Enrico Letta. Nei 5 Stelle certa la candidatura di Mario Turco, sempre nel proporzionale. Prende quota invece quella di Renato Perrini per Fratelli d'Italia e di Massimiliano Stellato nel raggruppamento centrista di Renzi e Calenda. Ufficializzate le candidature potrà partire la più stramba campagna elettorale della nostra storia repubblicana, tra scirocco e inconsistenze varie, altro che tra palco e realtà. La politica 4.0 è tutto fuorché politica. Come dice il grande vecchio del socialismo italiano, Rino Formica, il convento è povero ma i frati sono ricchi. A saperlo qual è il convento. Coronavirus. Il bollettino del 15 agosto segnala in Italia 9.894 nuovi casi e 42 decessi. Il tasso di positività aumenta rispetto al giorno precedente e si attesta sul 15,4%. Sul fronte dell'occupazione ospedaliera aumentano a 301 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre calano a 7.504 i degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 626 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 74 i contagi attestati nel Tarantino. Al momento nella regione sono 37.475 le persone positive al Covid, di cui 391 ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva. Continuano le indagini della polizia sulla maxirista scoppiata a Talsano in una kebabberia di Viale Europa all'alba del giorno di ferragosto. Quattro le persone rimaste gravemente ferite, a una di loro è stato staccato il lobo di un orecchio. La zuffa è scoppiata all'interno del locale e pare per futili motivi, coinvolgendo un numero imprecisato di persone che si sono scambiate colpi violentissimi fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti della squadra volante e le ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare in codice rosso due persone. Un brutto risveglio nella mattinata del 16 agosto per i proprietari di un otobar situato in via Dante Alighieri a Taranto. La vetrata laterale del piccolo Dior situato sul marciapiede antistante al bar è stata infatti completamente distrutta. Dalle fotografie in possesso di Cosmopolis Media è possibile notare i numerosi frammenti vitrei sul marciapiede. Dal momento che la restante parte del divisorio sembrerebbe intatta, si potrebbe escludere un incidente causato dall'impatto di auto o moto sulla struttura. La polizia locale è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per indagare sulle cause. Al momento non si escluderebbero atti vandalici o intimidatori. Il prossimo sarà un autunno difficile. A sostenerlo sono i sindacati metalmeccanici di CGL e Cisle Will. La difesa dei posti di lavoro e del potere d'acquisto dei salari tra i temi più spinosi. Rocco Palombella, segretario nazionale della Wilm, parla di una situazione sociale divenuta ormai ingovernabile. Michele De Palma della FIOM e Roberto Benaglia della FIM invocano un confronto serrato con governo e imprese sulle retribuzioni. Tra le crisi industriali storiche di questo paese figura quella dell'ex silva, con 3.000 lavoratori in cassa integrazione e il decreto aiuti bis che nonostante preveda lo stanziamento di un miliardo di euro, non offre al momento soluzioni certe per il futuro. Un quadro desolante, una situazione, insistono i rappresentanti sindacali, che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Un ferragosto all'insegna della cultura, quello appena trascorso in Puglia. Secondo i dati in possesso della direzione regionale Musei Puglia, sono infatti circa 9.000 le persone che hanno scelto di passare la giornata visitando musei, castelli e parchi archeologici. Tra le mete più gettonate, come sempre, Castel del Monte e il Castello Svevo di Trani. Ottimi risultati anche per Taranto, il Museo archeologico nazionale del capoluogo ionico ha infatti registrato un altro boom di visitatori che con il comfort dell'aria condizionata hanno potuto ammirare le collezioni permanenti e temporanee esposte nella struttura. Archiviato l'ultimo vittorioso test contro il Manduria grazie alle segnature di Ferrara, Crisci e Kevin, il Taranto di Nello di Costanzo si proietta verso la seconda parte di agosto che vedrà le compagini di terza serie approcciare ai primi impegni ufficiali. 3-5-2, almeno allo stato attuale delle cose, sembra questo il modulo che l'ex tecnico di Messina e Venezia avrebbe battezzato come quello più consono le caratteristiche della rosa a sua disposizione. In attesa che il mercato porti con sé gli ultimi aggiustamenti, una prima idea del Taranto che verrà, sarà possibile farsela domenica 21 agosto, quando gli ionici disputeranno la loro sesta amichevole precampionato contro la Virtus Francavilla di Antonio Calabro alle ore 18, a porte chiuse sul sintetico del Giovanni Paolo II in una gara che inizia a profumare di Serie C. Si qualifica senza alcun problema le semifinali degli europei di nuoto 2022 che si terranno nel pomeriggio di oggi, 16 agosto, Benedetta Pilato, che nei 50 rana ha registrato il secondo miglior tempo in assoluto, sorpassata solo dalla connazionale Arianna Castiglioni. La nuotatrice Tarantina, classe 2005, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di aspettarsi di meglio. C'è stanchezza, ha detto, ma attendo oggi pomeriggio per vedere come andrà. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.